Tariffe dell'acqua pubblica bloccate fino al 2029. La decisione è stata assunta dai sindaci della conferenza territoriale 4 Alto Valdarno che ha approvato il nuovo tarifario del servizio idrico integrato erogato da nuove acque. Non ci saranno quindi aumenti rispetto a quanto già previsto ad inizio dell'anno. Nuove acque ha anche annunciato 55 milioni in più di investimenti sul territorio. Il gestore ha presentato richiesta di accesso ai finanziamenti legati al PNRR per circa 40 milioni di euro di cui 11,5 già finanziati. Ulteriori interventi di nuove acque saranno poi finalizzati al completamento dello schema di Montedoglio che permette l'approvvigionamento idrico della risorsa proveniente da questo importante invaso verso un numero di località sempre più ampio, in particolare verso i comuni senesi coperti da nuove acque. Allo stesso tempo sono previsti interventi per il rinnovamento e il collegamento della rete fognaria e per fornire l'allacciamento alla depurazione di un numero sempre maggiore di località anche di piccole dimensioni presenti sul territorio dell'Alto Val d'Arno.